Antica cura per l'ansia. Caratterizzata da un'eccessiva preoccupazione o paura, l'ansia è comunemente causata da traumi emotivi, traumi fisici, fattori di stress della vita e genetica. Secondo la medicina tradizionale cinese, se si soffre di insonnia, la causa è una carenza del cuore, se si ha paura, la causa è una carenza dei reni, l'eccesso di preoccupazione è legato ad una carenza della milza. Cibi che danneggiano, zucchero, cereali raffinati, dolcificanti artificiali, caffeina, alcol e carboidrati trasformati. Cibi che curano, verdure a foglia, carote, zucca, zucchine, barbabietole, grassi sani, noci e semi, olio di cocco, pesce selvatico e altri alimenti ricchi di omega 3, noci e semi crudi, alimenti ricchi di vitamine del gruppo B, uova, latticini fermentati. Le cinque principali prescrizioni antiche. 1. CBD. Riduce l'ansia. Assumere da 20 a 80 mg al giorno. 2. Valeriana. Migliora il sonno. Assumere un cucchiaino di tintura al giorno. 3. Ashwagandha. Aiuta a tenere sotto controllo il cortisolo. Assumere da 300 a 500 mg al giorno. 4. Magnesio. Calma il sistema nervoso. Assumere da 250 a 600 mg al giorno. 5. Camomilla. Calma il sistema nervoso. Bere uno o due tazze al giorno, oppure assumere un integratore come indicato. Altri rimedi. Meditare. Pregare. Provare l'agopuntura. Fare yoga. Fare esercizio fisico. Dormire otto ore a notte. Camminare nella natura. Ascoltare i suoni della natura. Compiere atti di gentilezza casuali. Praticare la gratitudine. Provare il digiuno intermittente e trovare il tempo per le attività e le persone che vi portano gioia. Altre erbe utili. Astragalo. Cava cava. Melissa. E dong ke. Oli essenziali. Diffondete qualche goccia di olio di lavanda, camomilla o ylang ylang per favorire il rilassamento. Non perdere il prossimo episodio di Antica Medicina Cinese. Solo su Antica Nutrizione. Nota bene. Quando inizi ad utilizzare questi approcci, è consigliabile avvalersi del supporto di un medico che conosca l'erboristeria, la medicina tradizionale cinese o la medicina funzionale, in modo da poter consultare con loro se si hanno sintomi persistenti. Nel prossimo episodio La cura per l'artrite, seguimi sul canale YouTube per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Antica Nutrizione vi augura una salute straordinaria. Grazie a tutti.